Ci troviamo in Galleria Ambigua, pieno centro storico di Arezzo e ripartiamo con la mostra Voci del Novecento, dedicata ad alcuni dei maggiori esponenti del Novecento artistico italiano. Sono ospiti di questa mostra autori come Antonio Bueno, Venturino Venturi, Lorenzo Bonecchi, Nino Caffè, Eliano Fantuzzi, Orlando Cavallucci, Orfeo Tamburi, solo per citare alcuni nomi. Taglio del nastro virtuale per la mostra Voci del Novecento, ospitata alla Galleria Ambigua di Via Cavour ad Arezzo. A causa delle misure di sicurezza anti-covid, infatti, l'esposizione è stata presentata online. Vuole essere uno scossone forte per la cittadinanza e per tutti gli amanti d'arte, perché ospiteremo alcuni degli esponenti principali del Novecento artistico italiano, come per esempio Nino Caffè, i bozzetti che ho alle mie spalle, Antonio Bueno, Venturino Venturi, Remo Squillantini, Lorenzo Bonecchi e molti altri, insomma, pittori che hanno fatto la storia. E credo che questa sia un'opportunità anche per la città di Arezzo, perché vogliamo che la cultura riprenda campo. Sicuramente cercheremo di un po' di svecchiare, come si dice, l'arte, che poi, cercando anche di coinvolgere ragazzi più giovani, non solo pittori, ma anche fotografi, come altra volta si diceva, e facendo anche dei progetti come piccoli video, piccoli cortometraggi con cui presenteremo gli artisti che parteciperanno e esporeranno da noi in Galleria Ambigua. I dipinti provengono da una collezione privata e resteranno esposti in Galleria sino al 19 giugno. Gli interessati potranno visitare la mostra nel rispetto delle norme del distanziamento sociale.